Ben trovati al Tgmedesport, è un sabato pieno di appuntamenti per le siciliane non soltanto in Serie B, il Trapani ospita il provinciale Lo Spezia, ma anche in Serie A dove il Catania gioca al Sant'Elia nel primo dei due anticipi del sabato dopo la vittoria di ieri per 2-0 della Roma contro il Tgmedesport. Il Napoli, Roma da sola in testa alla classifica. Dunque andiamo con ordine, partiamo dal Catania con Rolando Maran che chiede tanto da questa sfida del Sant'Elia con pochi problemi fortunatamente di formazione per il tecnico Rosso Azzurro. Sicuramente abbiamo prestato grande attenzione al Cagliari perché secondo me è una delle squadre, al di là delle grandi così, che ha un grande potenziale offensivo, soprattutto molto bravi nell'attaccare la profondità. Su questo abbiamo lavorato. È ovvio che poi i concetti però sono sempre gli stessi. Il fatto di essere sugli anticipi e il porre attenzione sulla profondità sono concetti che comunque vanno sempre curati, dei quali bisogna sempre tenere conto. Per cui anche questa settimana, al di là delle caratteristiche del Cagliari, sappiamo la pericolosità del Cagliari, però abbiamo lavorato proprio in funzione delle cose solite, ma perché le cose solite sono le cose che ci aiutano sempre. Dare continuità perché comunque veniamo da due ricettati utili, una mancata vittoria proprio per un episodio perché se andiamo a rileggere, a rivivere quei momenti, probabilmente era già una partita che avevamo in tasca, però insomma non è andata così. Però insomma il fatto di dare continuità, il fatto di dimostrare, di continuare a essere, di dimostrare la solidità che abbiamo mostrato insomma nelle ultime gare è fondamentale. Fondamentale per farlo anche fuori casa e cominciare a portare a casa punti. Sì, era da tanto che lo aspettavamo, era una cosa che non, ripeto, non solo noi, se non tutti i tifosi e anche la gente, anche la gente a Cagliari, penso che voleva vedere la squadra in casa. Quindi questa è una cosa importantissima, perciò fa sì che sia una partita speciale per noi, ma per tutti noi, ripeto, non solo per noi, cioè i giocatori, lo staff, la società, se no anche per la città stessa. Quindi penso che sia una partita speciale. Forse a volte siamo troppo belli e non concreti, quindi ora non è che non dobbiamo giocare più calcio, però secondo me bisogna cercare ancora di continuare a giocare, perché questa squadra ce l'ha, però bisogna essere più concreti, ma non solo sottoportasi, no? In tutti gli aspetti, anche quando un difensore cia la palla, gira la palla, con più aggressività, un giro palla bisogna farlo con un fine, quindi andare a far male, andare a verticalizzare e cercare di far gol. 4-3-1-2 per Ile Cagliari di Lopez, in porta Agazzi, Perico, Rossettini a storie, Murru in difesa, Cabrera, Conti e Nainggolan a centrocampo, Cossu dietro le due punte, Ibarbo e Sao, 4-3-3 invece per Ile Catania di Rolando Maran, con Frisonne in porta, Anducar infatti non sarà della partita, deve ancora recuperare il jet lag dopo le sfide con la sua nazionale. In Argentina, Alvarez, Le Grottaie, Bellucci e Biraghi in difesa, Izco, Almiron e Plasilla a centrocampo, Castro, Bergessio e Barrientos in avanti. Andiamo invece a vedere come giocherà il Trapani nella sfida delle 15 contro lo Spezia per Boscaia. L'unico dubbio è semplicemente la sostituzione di Pierrone squalificato, anche se è favorito su tutti Feola, visto che Ciaramitaro non ce l'ha fatta recuperare da un problema muscolare, conferma per Terlizzi in difesa e Iunco in avanti. Dunque 4-4-2 per il Trapani, Nord in porta, Garufo, Pagliarulo, Terlizzi e Rizzato, Pacilli, Feola, Caccetta, Inizetto a centrocampo, Iunco e Mancosu in avanti. È una partita che vale tre punti e che giochiamo in casa e quindi dobbiamo cercare di far valere anche il fattore campo, anche se non è facile, però vogliamo ritornare alla vittoria perché oltre alle prestazioni comunque ci vogliono anche i punti e quindi diciamo che in questo periodo sono mancati solo questi e da domani dobbiamo cominciare a ritrovare tre punti. Noi naturalmente sappiamo di incontrare una squadra forte, una squadra che comunque non regalerà nulla, una squadra costruita per arrivare ai quartieri alti della classifica, ma noi, ripeto, non temiamo nessuno, andiamo in campo per vincere come sempre rispettando appunto lo Spezia. Nello Spezia niente da fare per Albarasin, Ferrari e Madonna, nuovo ballottaggio tra Seymour e Moretti, possibile spostamento di Rivas dietro alle due punte, Bagua e Sansovini, con Stroppa che sceglie il 4-2-3-1, Leali in porta, Baldanseddu, Lisuzzo, Ceccarelli è migliore in difesa, Bovo e Appel a centrocampo, Sansovini, Moretti e Rivas dietro l'unica punta e Bagua. Chiude il programma il Palermo che lunedì in posticipo affronta a Siena la squadra di Beretta per una sfida al vertice importante per Iachini per trovare soprattutto conferme, non solo dal punto di vista dei risultati dopo i sette punti nelle prime tre partite della sua gestione, ma anche e soprattutto sul piano del gioco, con tutti i nazionali a disposizione, con l'unico indisponibile e in dubbio Barreto, che comunque dovrebbe essere della gara, con un Belotti che scalpita e adesso vuole un posto da titolare. Sicuramente è stato fatto un avvio bellissimo, non pensavo anch'io di partire così, però con il lavoro e il sacrificio che mettevo sul campo, i risultati li ho tenuti, sia in nazionale che qui al Palermo. Ormai l'inizio penso di essere partito bene, adesso cercherò di andare avanti, continuando così e di fare anche qualcosa in meglio per aiutare la squadra e i compagni ed arrivare al sogno e promozione. Se meglio preferisco seconda punta, sul lato sinistro, però certo posso ambientarmi sia a fare la prima punta, come sto facendo in nazionale, che anche dall'altra parte destro. Quindi diciamo che so ambientarmi in tutte le parti del fronte d'attaque. Andiamo a leggere di fatto il programma di questa giornata in Serie B, tra l'altro con l'anticipo di ieri tra Cesena e Bari, con la vittoria per 2-1 della squadra di Bisoli. Per quanto riguarda invece la giornata di oggi, abbiamo già detto chiaramente di Trapani e Spezia. Alle 15 Avellino-Carpi, Brescia-Cittadella, Crotone-Lanciano, Eppoli-Varese, Modena-Regina, Padova-Iuvestabia, Pescara-Latina, Ternana-Novara. Chiude, come detto, il posticipo tra Siena e Palermo di lunedì sera. Non ci sono altre notizie, grazie per essere stati con noi e arrivederci. Rescaf, azienda leader nel settore delle scaffalature metalliche presente sul mercato fin dal 1967. Una tradizione di qualità e una costante attenzione ai nuovi bisogni di una clientela sempre più esigente sono la forza di questa grande realtà siciliana. Visitando il nostro sito www.rescaf.com troverete diverse promozioni nella sezione e-commerce. Rescaf è a Palermo, in Viale Regione Siciliana 2306. Per info www.rescaf.com www.rescaf.com Grazie a tutti.